Comissario Esposito E' più nella fase difensiva e ha subito qualcosa in più L'altra volta invece subito all'arempaggio e ha attaccato tanto e la sfortuna non l'ha contraddistinta Oggi forse ha penato un pochino più, poi ha trovato il vantaggio e ha avuto un'ottima reazione diventando padrone del campo Sì, non è facile adattarsi a questo terreno di gioco, noi non siamo abituati E' un terreno di gioco che penalizza quello che è il nostro modo di giocare Infatti abbiamo fatto una partita, si avete notato, un po' diversa dal solito Abbiamo cercato di fraseggiare meno e di cercare verticalizzazioni immediate Avevo chiesto ai ragazzi di evitare falli, soprattutto falli stupidi Perché sapevamo che il Valdiano aveva calciatori rosa come della Femmina e Masullo Molto bravi a calciare dai 20 ai 25 metri E in effetti così è stato, perché le prime due occasioni loro sono venute da falli stupidi nostri E calci da fermo che loro hanno sfruttato al meglio E' stato bravissimo Capone sulla punizione di Masullo a deviare sulla traversa Poi abbiamo trovato il vantaggio e credo che da quel punto in poi non ci sia stata più partita Perché avremmo potuto anche chiuderla prima Anche sul 4-1, il colpo di testa di Giordi, Pasquale, attuverso il portiere Poteva avere miglior fortuna, miglior sorte Quindi credo che poi sul risultato finale non ci sia alcun dubbio Mister, ora cambia tutto Uno scenario diverso da inseguitice a farsi inseguire Diciamo che l'Agro, il settimo risultato del consecutivo Ora vede dall'alto un campionato che diventa, a mio parere, sempre più bello ed entusiasmante Perché come abbiamo visto è vero che dopo il vantaggio avete dilagato Però c'è un grosso equilibrio in testa e in coda dappertutto Con il mercato di riparazione, ancora di più con le polemiche Poi non ne parliamo, polemiche però che non interessano il campo Interessano la parte di fuori a cui tutti ci dissociamo Però è un campionato bellissimo Lei che è un esperto, ci può confermare tutto questo? Io e i miei ragazzi ci teniamo fuori dalle polemiche Pensiamo solo a lavorare sul campo e esprimere il miglior gioco possibile Per quanto riguarda la prima domanda, per noi non è cambiato niente Noi non inseguivamo prima nessuno e non cerchiamo di distaccare nessuno adesso Facciamo il nostro campionato come l'abbiamo fatto dall'inizio della prima giornata fino adesso Proviamo a vincere tutte le partite, a volte ci riusciamo, a volte no E accettiamo il veritetto del campo, ma non abbiamo assili di classifica Non li avevamo prima, non li avevamo quando eravamo attardati di 15 punti alla prima Non li abbiamo adesso che siamo primi in classifica La classifica noi la guardiamo, ma giusto così per dovere di cronaca Non influirà sul nostro modo di giocare e sul nostro cammino Con Mr. Tutisco analizziamo una gara che possiamo dividere in diversi tronconi Diciamo primo quarto dove meritatamente forse il Valdiano poteva portarsi in vantaggio L'Agropoli ha subito più del dovuto, un salvataggio del portiere, una traversa Diciamo che è un Valdiano che è partito alla grande Poi c'è stato il fallo del rigore che se non altro c'è il dubbio sul calcio di rigore Poi l'Agropoli è venuta fuori, ha dilagato un pochino, si è riaperta la gara ancora una volta Però alla fine concludendo è un Valdiano che non ha mostrato sicuramente di essere da meno dell'Agropoli In questa gara, quindi fa be' sperare per il futuro Io anche se ho perso questa partita di oggi posso dire che questa è una squadra che viva Che non molla, è una squadra che sul 1-0-0 abbiamo avuto due palle Se passavano in vantaggio con una traversa, il miracolo che ha fatto il loro portiere Non c'è nulla da dire Ci siamo trovati sul 3-0 in 20-25 minuti, non ci ho capito più niente Non abbiamo capito più niente, abbiamo perso le staff, abbiamo perso le distanze Abbiamo perso le geometrie, non abbiamo più giocato Poi al secondo tempo abbiamo messo dentro il cuore, oltre E di conseguenza poi abbiamo accorciato Però lo sono stati bravi, squadra esperta, squadra veloce Una squadra che ti riparte e ti fa male su ripartenze Mi dispiace, ripeto, per la sconfitta Però se l'atteggiamento della mia squadra è questo Da qua alla fine ci possiamo salvare e ci salveremo sicuramente Con il direttore sportivo Venitucci del Valdiano Analizziamo un pochino questa gara Una gara che posso tranquillamente dividere in più tronconi Primo quarto ad appannaggio solo ed esclusivo del Valdiano Ha fallito diversi gol, poi è stato pulito a un calcio di rigore Dubbio, quindi alla fine ha dilagato Ha dilagato l'Agropoli Ma un Valdiano che non ha demeritato Ha fatto un'analisi molto molto corretta Secondo me, a prescindere di sottolineo sempre dal risultato Se ci fosse stato un arbitraggio più coerente Più corretto sicuramente pur forse perdendola Avremmo visto una partita nel trongone che è il terzo Che lei correttamente non ha detto ma io lo posso dire Perché la verità sarebbe stata più bella Un finale più coinvolgente Perché sicuramente possiamo dire A prescindere il rigore dubbio Sicuramente se quello era dubbio Due nostri dubbi a questo punto dovevano fare almeno un rigore Però, ripeto, noi siamo molto contenti della squadra Soprattutto di alcuni innesti nuovi che sono entrati Che ci possono dare una grossa mano sicuramente Non era la partita in assoluto che ci doveva servire per vincere Per il nostro obiettivo che è una salvezza tranquilla Ma sicuramente ci ha fatto capire che è una squadra che può giocarsela con tutti Sperando appunto che, ripeto, l'arbitraggio in seguito sia coerente Ma per lo sport, non solo per... Io ripeto, non considero che sia l'agropole ad essere avvantaggiato Sicuramente è stato un arbitraggio che non era in forma l'arbitro Grazie a tutti Grazie a tutti